Grazie a tutti. Quinta corsa di Palermo, indigene di 4 anni sulla breve distanza, è il centrale del pomeriggio, molto equilibrio al gioco che in fase di chiusura si va allo stacco, stacco che vede l'ottimo lancio dello specialista Siantego Weiss AS che contiene salsa e merenghe che probabilmente adesso dovrebbe provare a ripiegare perché non crediamo che il cavallo di testa gli dia assolutamente strada, però continua a restare di fuori salsa e merenghe, evidentemente ha molte energie in serbo da utilizzare, i due prendono un vantaggio piuttosto consistente sugli altri, nel frattempo la corsa è chiusa al gioco, favorita sonrisa numero 6, 2, 78, contro favorita salsa e merenghe numero 3 che finalmente si sistema in seconda posizione, più indietro tutti gli altri capitanati proprio da sonrisa, partita piuttosto svelta, mentre la partenza è andata molto male a Siragirgast che si trova in coda. Primi 600 metri in 44, un filo scarsi per il capofila Santiago Weiss AS, sonrisa compagna di allenamento di salsa e merenghe, punta adesso in avanti e prova ad impedire al capofila di prendere eccessivamente in mano, dunque Santiago Weiss AS al comando, sonrisa per linee esterne dietro i due salsa e merenghe, nel frattempo ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro, primo chilometro percorso in 1'14 e mezzo, quindi andatura tutto sommato normale per la categoria, si sposta salsa e merenghe per andare in tezza ruota e viene infilata all'interno da Stacey Cup, l'estremo outsider del campo, in coda Siragirgast mentre salsa e merenghe dopo la spesa iniziale dà l'impressione di avere sciupato troppa energia e cala, quante delusioni in questa corsa, Siragirgast veniva da una grande prestazione, salsa e merenghe da ottime performance, li vediamo in coda mentre la favorita al gioco, sonrisa, sembra in grado di poter coronare il percorso esterno, però arriva di spunto Salice dei Rum che già l'ultima volta è riuscita a pizzicare qualcuno sul traguardo ma stavolta non c'è niente da fare, vince sonrisa con Gasparalo Verde nei confronti di Salice dei Rum ben disimpegnatasi in gara di rimessa, mentre per il terzo posto potrebbe essere l'ultima cavalo al gioco Stacey Cup ad aver avuto ragione del numero 2, Santiago Weiss AS. Vittoria dunque di sonrisa, Gasparalo Verde in sediolo, Francesca Croce il trainer, Bimag SRL la scuderia, 2,78 la quota, un tempo che dovrebbe essere attorno all'1,59, quindi 1,14 e qualche linea, buon secondo posto per Salice dei Rum, sorprendente terzo posto di Stacey Cup, grosse delusioni per salsa e merenghe Siragirgast in numeri 6,45, l'ordine d'arrivo natural.